Il 7 ottobre è uscito un video da parte di Riot in cui annunciano quelle che sono le modifiche al gameplay per quanto riguarda il 2022 Cambiamenti che vedremo durante il mese di novembre, alcuni arriveranno direttamente a dicembre, altri invece arriveranno all'inizio dell'anno prossimo, a gennaio Proverò a fare un video diverso dalla solita discussione in cui, di solito, cosa faccio? Guardo il video e nel mentre commento e dico i miei pensieri reagendo direttamente al video Voglio creare qualcosa di più strutturato e di qualità maggiore perché, sinceramente, sono convinto di poter fare di meglio nei vostri confronti e vi meritate di meglio Se volete guardare prima il trailer di cui andrò a parlare, vi lascio sotto il link in descrizione così sapete qual è il contesto e quindi di che cosa sto parlando Per chi è meno pratico, i LoL Please sono dei video durante la quale la Riot presenta quelli che sono i lavori in corso, qual è la situazione attuale del gioco e quelli che loro pensano siano cose sulla quale possono lavorare e migliorare Il focus di questo video sono la pre-season, le sfide e le modalità di gioco Per quanto riguarda le modalità di gioco farò un video separato perché mi rendo perfettamente conto che si merita un video separato visto che c'è anche un developer blog a parte per iscritto Che va a dare più contesto e più informazioni su quello di cui dicono in questo video Il motivo per cui vanno a parlare fin da subito degli argomenti di questo video è molto semplice Vengono elencate fin da subito per far capire che il focus principale di questo LoL Please sono le questioni di gameplay e correlate In pratica quello che fai in partita mentre giochi, i campioni che usi, le rune che scegli, gli oggetti che compri, come interagisci con la landa Queste cose sono il focus principale Infatti questo include anche le modalità alternative perché sono modi di gioco diversi da quello che avviene solitamente sulla landa e gli evocatori all'interno dell'ARAM Faccio questa nota iniziale per un semplicissimo motivo Molti si aspettavano aggiornamenti per quanto riguarda il sistema di ranked e sono tra questi sinceramente Perché mi sto cominciando a preoccupare di tutto questo silenzio attorno alla questione Ciao, sono il Lapo del futuro Volevo farvi sapere che è uscito un developer blog per quanto riguarda le ranked in cui discutono di come hanno intenzione di affrontare i problemi in futuro Ciò non cambia su quello che sto per dire e sul fatto che Riot fa veramente schifo a comunicare Ci vediamo stasera col video, dopo questo Partono con un discorso relativo ai bilanciamenti dei nuovi campioni di quest'anno E di come il rework di Mundo sia stato l'unico vero outlier Cioè l'unico davvero problematico Per dare una rinfrescata di memoria a tutti Andiamo a vedere insieme quelle che sono state le statistiche per i nuovi campioni usciti durante il 2021 E come sono atterrati sul server live a livello di win rate e bilanciamento Questo è abbastanza importante perché fa capire qual è il vero problema di questa season Considerate che molte delle medie che sto per andare a citare sono anche pesantemente deviate da quello che è il basso elo Dove campioni che sono anche complessi riescono ad avere un win rate molto più alto perché Beh, inizialmente le persone non sanno come giocarci contro Piego Nelle prime due settimane è partito con il 42% di win rate al giorno 1 Per arrivare al giorno 14 con il 48,6% di win rate I suoi problemi principali sono stati legati attorno al funzionare troppo bene mid lane Ruolo dove ora non riesce più a giocare Attualmente siede sul 47,16% di win rate Gwen, nelle prime due settimane è partita con il 40% di win rate al giorno 1 Per arrivare al giorno 14 con il 49,2% di win rate I suoi problemi principali sono stati legati attorno al gioco competitivo E come riuscivano a dominare in early game Attualmente siede su un 46,83% di win rate Dottor Mundo, nelle prime due settimane è partito con il 44% win rate al giorno 1 Per arrivare al giorno 14 con il 52,1% win rate Motivo per cui lo menzionavano come outlier Come caso statistico rilevante I suoi problemi principali sono stati legati a un'eccessiva forza a basso elo E una scarsa funzionalità in giungla Cosa per cui è stato ribilanciato Akshan, nelle prime due settimane è partito con il 39% win rate al giorno 1 Ricevendo due hotfix buff nel giorno 2 e giorno 3 Per portarla ad un win rate del 46,2% al giorno 14 I suoi problemi principali sono derivati dalla win send In uno stato eccezionale al suo lancio Che lo rendevano molto forte quando in vantaggio Vex, nelle prime due settimane è partita con il 46% win rate al giorno 1 Ricevendo un hotfix nerf al giorno 3 Mantenendola su uno stabile 50-51% di win rate ad oggi Ma probabilmente subirà un altro nerf Qua poi viene espresso un concetto Che purtroppo tirato fuori dal suo contesto Sembra molto sbagliato Ma è anche un errore di comunicazione da parte di Riot Farlo nel seguente modo E poi ne parlerò meglio dopo Viene detto che non pensano che i campioni abbiano kit sovraccaricati E c'è da notare che subito dopo Ammettono che a volte hanno fornito ai nuovi campioni Troppi strumenti E che hanno poi rimosso per dare debolezze più rilevanti Una delle cose che è stata studiata meglio da parte di Riot Che hanno percepito come principale punto di frustrazione per tutta la community È il fatto che molti dei campioni nuovi Non solo abbiano delle meccaniche nuove Ma sono qualcosa che devi imparare ad affrontare E non è così semplice affrontarli Spesso e volentieri è stato complesso Anche in passato Affrontare nuovi campioni che avevano meccaniche astruse Fanno l'esempio di Aphelios Giusto per citare un campione che non indicava molto Qual era il suo status attuale Di conseguenza senza avere un indicatore chiaro di come interagire con un campione Avevi praticamente questa difficoltà extra Di dover prima imparare come interagire con un campione E poi imparare a giocare contro questo campione Su questo discorso sono particolarmente d'accordo Perché Viego, Gwen e Akshan Hanno delle meccaniche particolarmente nuove Viego che va a rubare i corpi Gwen che può diventare intargettabile Gwen è immune? Gwen è immune? Haha XD Akshan che ha il suo nuovo rampino Che è molto complesso da gestire Non solo da parte sua ma anche da parte degli avversari Se non sanno come funziona E nel momento in cui li affronti le prime volte È estremamente frustrante Una volta che impari a giocarci contro Diventano molto più bilanciati Il punto è questo È che semplicemente non è facile interpretare fin da subito Come funziona un campione E come dovresti giocarci contro E questo è qualcosa su cui la Riot deve lavorare un pochino meglio Soprattutto a livello comunicativo Considerate inoltre che a livello di campioni semplici Il reward di Dr.Mundo e l'uscita di Vex Dovevano essere i due campioni semplici dell'anno Oltre ai due campioni che sono stati rimandati al 2022 Che non sappiamo la natura dei loro kit E di conseguenza viene anche difficile giudicare Se hanno fatto uscire soltanto campioni complessi da affrontare Oppure se anche i successivi due sarebbero stati complessi Parlano poi della varietà di scelte in ogni ruolo E della diversità di stili di gioco E qui non mi trovo particolarmente d'accordo con la loro opinione Avranno sicuramente internamente dei modi migliori Per poter registrare i dati E poter capire effettivamente come le varie categorie di campioni E i campioni in uno specifico ruolo funzionino Allo stesso tempo penso che non sia rappresentativo Dello stato di frustrazione di molte classi all'interno del gioco Categorie come i maghi e i tank sono assolutamente bistrattate In favore di campioni assassini e juggernaut fighter E questo è un grosso problema Perché non c'è un bilanciamento tra la totalità dei campioni E di conseguenza questo porta a certe categorie a soffrire ancora di più Facciamo un esempio pratico Certi tiratori vorrebbero andare ad affrontare dei campioni Che sono diversi da assassini e fighter Ma nel momento in cui gli assassini e i fighter Sono l'unica cosa che dominano Gli adcari si sentono più deboli di quello che effettivamente sono I tank non esistono all'interno del gioco E di conseguenza questo crea tutta una serie di conseguenze all'interno del gioco Per tutti quanti È lì che sta il punto di frustrazione Non essendoci un bilanciamento per specifiche classi di campioni Altre classi ne soffrono di conseguenza E altre invece vengono premiate per così dire Assassini e Bruise sono quelli che vengono premiati di più in assoluto attualmente E la parte più frustrante in assoluto È che poi riconoscono che alcune categorie di campioni Hanno dei problemi con il nuovo sistema di oggetti mitici E che vogliono andare ad affrontare il problema durante questa prestagione Ed è proprio qui Ed è proprio su questo punto che mi voglio concentrare Perché è qui che nasce tutta Tutta la frustrazione di questo video Tutta La scelta di cominciare ogni singolo discorso dicendo Good job Le classiche pacche sulle spalle E le medaglie che vengono date da soli È un modo di comunicare orribile Perché sembra che tu non stia percependo il problema E tu non stia riconoscendo il problema Ma piuttosto dici Wow abbiamo fatto tante belle cose Ok c'è qualche problema ma lo risolveremo poi È una forma di positivismo tossico che io non sopporto assolutamente E che beh diciamo che non è una cosa che viene percepita bene dalla maggior parte delle persone Perché dà una sensazione di arroganza che è bruttissima da dare Soprattutto quando stai comunicando dei cambiamenti E stai cercando di riconoscere dei problemi In pratica chi è vittima dei problemi stessi Semplicemente sente un tizio che dice Wow tutto sta andando bene No non è che tutto sta andando bene Dici tutto sta andando bene ma ci sono dei problemi Se il discorso fosse partito Ci sono dei problemi Però abbiamo fatto anche queste cose giuste La percezione del discorso sarebbe molto diversa da parte di tutta la community È questo il problema Ed è un problema che poi nella seconda parte del video affrontano anche molto meglio Il punto è semplice Bisogna dare più valore a riconoscere i problemi E meno valore a ciò che si è fatto giusto È bello farlo internamente quando si chiacchiera tra colleghi È molto negativo quando si parla invece alla propria community Ed è anche per questo che volevo A impostare il video a questo modo E B aspettare prima di fare questo video Perché è una cosa che sono riuscito a comprendere meglio Nel momento in cui mi sono messo a mente fredda A riguardare il video A ragionare come le persone potevano reagire E a quelle che sono le conseguenze di questo video Perché questo video è sì positivo per gli annunci che hanno fatto per quanto riguarda le novità Sono tante belle novità Ma allo stesso tempo va a creare questo distacco tra la community e Riot Semplicemente perché hai sbagliato l'ordine degli addendi Tutto qua Andiamo a discutere dei cambiamenti di questa preseason Parto subito dicendo che non andrò a giudicare lo status di forza Di queste modifiche che vogliono andare a inserire Perché beh, parlare di qualcosa senza il contesto necessario I numeri, i valori, la funzionalità È abbastanza inutile Voglio piuttosto andare a parlare di quelli che sono i possibili punti di bilanciamento Delle singole cose che vengono introdotte E di quelle che sono le mie preoccupazioni personali A questo modo abbiamo un modo per poter poi riguardare dopo in futuro Quelli che sono i cambiamenti effettivamente inseriti E di come discutere meglio il bilanciamento nella sua totalità La premessa di quest'anno è che il 2022 sarà un anno in cui vanno a migliorare I sistemi che ci sono già attualmente Il sistema di rune, il sistema di oggetti E il sistema dei draghi elementali e della landa elementale Veloce nota, qui parlano molto più chiaramente di quelli che sono i problemi E poi parlano della soluzione che implementeranno Partiamo dai nuovi oggetti e nello specifico partiamo dai nuovi oggetti mitici Quello da tank e quello da mago L'oggetto mitico da tank è concepito per i tank support che vogliono ingaggiare Ma è un oggetto che può tranquillamente funzionare su campioni da hard engage Come Malphite, Sejuani, Zack e tanti altri Questo mitico premia l'aggressione e il lanciarsi nella mischia Immobilizzare un bersaglio porta tutti gli alleati vicini al bersaglio immobilizzato A prendere danno extra da tutti i tuoi compagni di squadra Guardando l'icona che appare sui campioni quando vengono ingaggiati da Leona Possiamo vedere come siano marchiati Non conoscendo l'area di attivazione, la durata dell'effetto e la potenza di questo effetto È davvero difficile giudicare la forza di questo oggetto Altri punti di interesse su questo oggetto necessari per poterne giudicare il bilanciamento Sono le statistiche e la passiva mitica Senza queste informazioni rimango molto positivo sull'idea che vogliono proporre Ma aspetto di vedere i numeri prima di poter giudicare in maniera efficace l'oggetto Principalmente mi piace l'idea perché è un oggetto per quei campioni che vorrebbero ingaggiare E che semplicemente vogliono far fare meglio il loro lavoro a tutti i compagni di squadra Uno può pensare e dire ma c'è l'Abyssal Musk che fa questa cosa Sì, assolutamente vero ed è il motivo per cui l'Abyssal Musk verrà reworkata La Musk era abissale in italiano Ma il punto è questo È che serve un'alternativa per i tank support perché non tutti vogliono semplicemente difendere come Brom Non vogliono andare semplicemente a proteggere i propri alleati magari col medaglione di sole di ferro Alcuni vogliono lanciarsi a testa bassa Alcuni vogliono ingaggiare di faccia È questo il punto chiave Ed è questo il motivo per cui questo oggetto viene introdotto Però funziona bene anche su tank jungler o tank top laner ovviamente I punti di bilanciamento sono Il raggio di attivazione La durata dell'effetto Il cooldown dell'effetto Il valore di amplificazione dell'effetto Statistiche dell'oggetto E la passiva mitica L'oggetto mitico da mago invece è concepito come risposta difensiva Creata per andare a gestire i campioni che scaricano il loro burst di danno tutto insieme Che sia danno magico o fisico poco importa È un item pensato per gestire assassini Quando l'oggetto viene acquistato appare questo scudo sul proprio campione E finché la protezione è attiva otterrete anche abiliti haste Velocità d'abilità È pensato quindi per quei campioni che vogliono spammare tante abilità e che vengono spesso minacciati dagli assassini di turno Non giudico nemmeno ciò che vedo a video perché non danno il contesto di quanti oggetti abbia Talon E quanti ne abbiano le vittime di Talon Di conseguenza ha poco valore Ho diversi punti di preoccupazione e discussione su questo oggetto Ma uno nello specifico è quello che mi preoccupa di più in assoluto La statline, cioè le statistiche che l'oggetto avrà dalla sua La mia speranza è che comunque questo oggetto sia concepito più per i maghi Piuttosto che per categorie esterne a quelle dei maghi Perché potrebbe diventare davvero pericoloso per alcune categorie che potrebbero sfruttare statistiche difensive Quello che dico è questo Non voglio che la protezione sia aumentata e potenziata ancora di più dal fatto che hai degli HP extra O delle resistenze extra nello specifico Perché resistenze extra lo renderebbero specializzato contro specifiche categorie di danni E gli HP extra semplicemente renderebbero il campione più frustrante da uccidere a prescindere Perché non solo ha la protezione ma anche degli HP bonus Non solo, se diventa troppo forte sotto il punto di vista difensivo Vuol dire che viene sacrificata molto l'identità da mago E quindi o non fa abbastanza danno o difende troppo È un equilibrio molto molto pericoloso che questo oggetto deve passare E di conseguenza occhi aperti I punti di bilanciamento sono La durata della protezione La potenza della protezione Il cooldown della protezione Le statistiche dell'oggetto E la passiva mitica dell'oggetto Passiamo agli oggetti leggendari nuovi Ce n'è uno per gli assassini Dal nulla Uno per i tank Molto buono E uno per i maghi Che è una peculiare curiosità che apprezzo un sacco L'oggetto per gli assassini È un oggetto che è concepito per dare tanta ability haste La velocità di abilità E che rimborsa una parte della ricarica della Suprema Quando contribuiscono all'eliminazione di un nemico Non sono un grandissimo fan dell'idea Perché ho la sensazione che risulterà o estremamente forte O particolarmente debole Molto dipende anche da come viene bilanciato l'oggetto A livello di statistiche Se il focus è principalmente sull'ability haste E sul dare più modi per poter utilizzare le proprie abilità Io sono totalmente d'accordo Ma nel momento in cui eccede nella quantità di letalità O eccede nella quantità di attacco fisico Può diventare davvero davvero pericoloso Deve avere valori statistici di letalità O attacco fisico mediocre Altrimenti diventa estremamente forte Su più categorie di campioni Anche all'esterno della categoria degli assassini I punti di bilanciamento per questo oggetto sono Quanto riduce il tempo di ricarica della Suprema Il margine di tempo dopo aver contribuito ad una kill per attivare l'effetto La facilità di costruzione dell'oggetto E le statistiche dell'oggetto L'oggetto per i tank è concepito per coloro Che vorrebbero aumentare la quantità di mana totale Che hanno dalla loro Ottenendo HP bonus maggiore la quantità di mana che hai dalla tua In pratica più mana hai più HP hai Inoltre quando immobilizzi un nemico con un controllo pesante Ottieni uno scudo consumando una porzione del tuo mana massimo Considerata la situazione di tank Grazie Finalmente Riot abbiamo un oggetto che dà HP E che è un modo alternativo per ottenere HP Parliamoci chiaro Ci sono tanti oggetti che danno HP Proprio schietti diretti Le catene di anatema Il voto del cavaliere L'armatura di Wormog Ma sono tre oggetti che sono estremamente di nicchia E estremamente specializzati per specifiche situazioni E di conseguenza sei lei che dici Ok, quale voglio davvero Questo è un problema per i tank Perché non essendoci un oggetto universale che ti permetta di prendere grosse quantità di HP Che funzionano a prescindere dalla categoria di campione che sei Dal modo in cui giochi eccetera 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 Ti ritrovi in difficoltà di temizzare come secondo oggetto Questo oggetto non solo si specializza in un modo molto molto comodo Che è quello di dare mana extra Ma dà anche un modo per sinergizzare con l'identità dei tank Cioè immobilizzare le persone Il focus dei tank è sempre dare utilità extra Ma dare utilità extra e morirci non è molto comodo Dare utilità extra e poter effettivamente sopravvivere a questa utilità extra Che stai regalando ai tuoi compagni di squadra È una cosa molto molto importante E riempire questa nicchia Soprattutto per campioni che usano tantissimo mana A provo in pieno Riot Grandissimi Più che altro perché vai anche a compensare il fatto che Alcuni tank vorrebbero oggetti da mana E non ce n'erano per i tank Spero vivamente che sia un oggetto da lacrima della dea Per evitare che ci siano sinergie strane con Ryze Prendendo questo oggetto e l'abbraccio serafico Non sarebbe proprio il massimo I punti di bilanciamento per questo oggetto sono La quantità di scudo che ottieni quando immobilizzi qualcuno Il cooldown di questo scudo La quantità di salute che ottieni per il mana che hai Le statistiche dell'oggetto Oggetto per i maghi è concepito per venire incontro A due grosse necessità dei maghi attualmente La prima è la facilità con cui trovare uccisioni Attualmente i maghi sono in grossa difficoltà nel trovare le uccisioni E questo oggetto dovrebbe aiutarli Non solo, i maghi non avevano nessun modo per poter gestire in maniera efficace e sana gli scudi E adesso finalmente ce l'hanno La sua funzionalità è molto semplice Se una persona viene protetta da uno scudo Avendo questo oggetto avrai più penetrazione magica contro lo specifico campione Risultando in un danno aumentato Mi piace l'idea di non dare un altro oggetto che va a spezzare gli scudi Ma piuttosto danno un modo diverso di interagire con gli scudi Perché a questo modo non è solo un ok tutti gli scudi sono più deboli punto Ma piuttosto un Lo scudo va a semplicemente amplificare il danno dell'avversario Però se ha abbastanza risenza magica il mio alleato non è un problema A questo modo devi pensare meglio a chi dare gli scudi E non crei quel problema in cui devi potenziare gli scudi Perché ci sono troppi modi per spezzare gli scudi Approvo in pieno questa scelta Sono molto curioso di capire che statline abbia Perché attualmente non avere informazioni in merito Non è che mi preoccupi Ma ho paura che diventi un oggetto estremamente specializzato E che di conseguenza sia un po' limitato a fare il suo lavoro I punti di bilanciamento per questo oggetto sono Il valore di penetrazione magica che ottieni Quanto dura questa penetrazione magica bonus Come funziona se lo scudo è già svanito O se è già stato spezzato da altre fonti di danno Le statistiche dell'oggetto Il discorso procede sulle rune e come hanno intenzione di reworkare Alcune delle rune chiave sul ramo dell'ispirazione Ma anche in altri rami In primis fanno vedere quello che è l'esempio del potenziamento glaciale La sua nuova funzionalità In pratica il potenziamento glaciale Nel momento in cui tu applichi un controllo pesante Vai a creare l'area di rallentamento che prima creavi con altri oggetti Molto comodo, molto interessante Però voglio capire come funziona meglio Una volta che arriva sul server PBE Ne riparleremo meglio in futuro Non voglio esprimermi troppo su qualcosa Che è stato menzionato vagamente E infatti anche il fatto che abbiano menzionato Ah sì, vogliamo cambiare come funziona la little tempo Il tempo letale Senza però dire come vogliono cambiarlo È tipo Ok Riot Cioè Fammi vedere Spiegami Dimmi qualcosa Qualcosa Non dirmi Lo cambieremo Per funzionare meglio con gli adcari Non vuol dire niente Il discorso Il discorso passa sulle taglie degli obiettivi Una cosa che quando è stata annunciata La gente ha tiltato malissimo E non capisco bene il perché Cioè Siamo in uno status attuale del gioco In cui se rimani in svantaggio Poi non riesci a recuperare E non ci sono modi per recuperare Secondo la gente E La Riot propone un sistema Per dare modo alla gente di recuperare E la gente tilta Voglio procedere spedito su questo discorso Perché non è che abbiano dato tutte queste specifiche A confronto all'ultima volta che ne abbiamo parlato Il team che sarà in svantaggio durante la partita Avrà la possibilità di poter rientrare in gioco Ottenendo obiettivi presenti sulla mappa E questo include i mostri epici Come il Drago Il Baron E l'Araldo della Landa Oppure più semplicemente Abbattendo le torri Sono taglie che crescono lentamente In base al divario con la squadra nemica E l'oro che viene ottenuto dalla taglia Viene condiviso con tutto il team Su tutta la mappa Il tempo di questo cambiamento È semplicemente dare un modo Per poter recuperare la partita Quando si è in svantaggio Se il problema è Le persone prendono vantaggio E non si può recuperare Dare un modo per recuperare Dovrebbe essere il modo più ovvio Per risolvere il problema E molta gente si è triggerata Perché dice Eh ma non è giusto Che se io prendo vantaggio Allora vengo punito No, non vieni punito Nel momento in cui tu prendi vantaggio Tu puoi distruggere il tuo avversario Ma se gli lasci fare il cacchio che vuole E lui recupera Non è colpa del sistema di gioco Non è colpa della Riot È colpa tua Se tu sei in vantaggio E non sai sfruttare il tuo vantaggio È colpa tua Fine La Riot ha detto però una cosa E vogliono tenere chiare Tondoli identità di League of Legends Se tu prendi vantaggio Tu puoi distruggere un game Senza grandi problemi È una cosa che vediamo Costantemente in solo queue E quindi potete capire Come ancora questo avviene Tuttavia Non vogliono Che sia troppo semplice Recuperare Deve essere difficile Poter recuperare Deve esserci un modo per farlo Ma non deve essere facile E qui arriviamo Al punto più discusso Per quanto riguarda La pre-season I due nuovi draghi Mi permetto un commento ad hoc Giusto perché Sono stato un po' troppo Poco triggerato In questo video Mi spieghi come Da landa elementale Siamo arrivati Alla landa elementale Più due Cioè Questi due draghi Non sono elementali L'extech e il chemtech Non sono degli elementi Sono delle metodologie Di utilizzare la magia Per poter utilizzarle Attraverso un mezzo tecnologico Per quale motivo Dovrebbero essere elementi Maledizione Riot Bene Chiuso il mio rant Da nerd Che è fissato con la lore Andiamo a parlare Dei due nuovi draghi Il primo drago È il drago extech Quando viene ucciso Ottieni velocità d'attacco E ability ace bonus Quando ottieni l'anima L'anima extech Ti conferisce un potenziamento Che ti permette Di rallentare gli avversari Con i tuoi autoattacchi E che rallenta a catena Tutte le persone vicine Questo funziona anche Attraverso i minion Come viene presentato nel video I punti di bilanciamento Per questo drago Sono i seguenti La quantità di statistiche Che ottieni per ogni drago Il valore di rallentamento Dell'anima Se danneggia o meno Il rallentamento dell'anima Quando il drago extech È il drago portante della landa La landa si trasforma Creando dei portali Di teletrasporto Che ti riposizionano In posizioni prestabilite Ero molto preoccupato Inizialmente Da questa funzionalità E poi Lasciandolo macerare Pensandoci con calma Arrivandoci a mente fredda Ci sono tanti modi Per poter bilanciare Queste cose E quindi Mi sono un attimo fermato La cosa che mi preoccupava In primis Erano gli spostamenti Istantanei sulla mappa Questo renderebbe Così complicato Il gestire come Un jungle Può essere tracciato O meno Ma poi Mi sono fermato di nuovo E ho continuato a ragionare Ci sono da considerare I seguenti fattori Nel momento in cui Consideriamo questa landa I teletrasporti Sono in posizioni Fisse Di conseguenza Diventa prevedibile Sapere dove sono i portali E puoi ad esempio Piazzare visione Di fronte ai portali Per sapere Se qualcuno Li utilizza o meno Quindi rendendoti capace Di poter prevedere Gli spostamenti Del tuo avversario Due I teletrasporti Teletrasportano In una direzione fissa Che cosa significa Nel momento in cui Entri in un teletrasporto Uscirai sempre Dallo stesso teletrasporto In un'altra posizione Sulla mappa Questa è fatta apposta Per renderli Più prevedibili Più leggibili E più counterabili Molto semplicemente Tre Non sappiamo Quanta distanza Coprono i teletrasporti Potrebbe essere Un balzo molto piccolo Come un balzo Molto grosso Penso che questo sia Il problema principale Che finché non sappiamo Come funzionano E qual è il valore Di distanza Del teletrasporto Può essere o mostruosamente forte O una gran cagata E di conseguenza Diventa anche difficile Prevedere quanto Può andare a modificare Le rotazioni All'interno della mappa Se non sai Quanto davvero Ti teletrasporta Un'altra cosa Che non sappiamo È se i portali Sono bidirezionali Puoi entrare E uscire Dallo stesso portale Se io entro Dal lato A Posso rientrare Del lato B Per arrivare ad A È una domanda Abbastanza importante Perché va a modificare Molto Del bilanciamento Dei portali Di conseguenza Aspetto a giudicarne La forza Finché non arrivano Su PBE Passiamo al secondo drago Il drago Chemtech Che quando viene ucciso Ti conferisce Danno bonus Quando la propria Salute è bassa L'effetto fa Tanta paura Considerati certi Campioni Ma senza sapere Il valore Di amplificazione Danno È veramente Difficile Giudicare Quanto possa essere Forte o meno E senza sapere Anche i bilanciamenti Di altre rune E sistemi Che sono presenti Attualmente All'interno del gioco Quando viene conquistata L'anima Ottieni un effetto Di similangelo custode In pratica Dopo qualche secondo Ritorni in vita E per qualche istante Puoi usare le tue abilità E muoverti Autoattaccare In maniera simile Alla passiva di Sion Per poi morire definitivamente Fa molta paura Soltanto a parlarne E descriverne Ma ragioniamo un attimo I punti di bilanciamento Per questo drago Sono i seguenti La quantità di danno bonus In proporzione Alla salute mancante Per ogni drago La durata Dello status zombie Dopo la tua morte Il tempo di attivazione Dello status zombie Prima che qualcuno chieda Come funziona Con questo campione Specifico Per Trindamere Cartus E Cogmo Funziona sempre Allo stesso modo Nel momento in cui Tu vieni ucciso E tu hai l'anima Del drago Chemtech Tu prima Torni in vita Con questo effetto zombie E poi Viene attivata La modalità Successiva Derivata Della tua passiva Cartus Ritorni in vita Continui a muoverti E poi muori Definitivamente Cogmo Stesso concetto Sion Stesso concetto Proprio Prima applica l'effetto Del drago Chemtech E poi applica L'effetto Della passiva Molto semplice Quando il drago Chemtech È il drago Portante Della landa La landa Si trasforma Creando delle zone Di smog In aree specifiche Della mappa Dove le persone All'interno Sono in mimesi L'invisibilità Che basta stare Abbastanza vicino Per poter vedere Le persone Anche questo effetto Suona particolarmente Preoccupante E pericoloso Ma fermiamoci Ancora una volta Un attimo Andiamo a ragionare Come può essere bilanciato Non abbiamo ancora Tra i numeri E la funzionalità Quindi finché non la vediamo È difficile a giudicare Ma ragioniamo Come può essere bilanciato La mimesi Ha un raggio di visione Entro la quale Tu vedi il campione In mimesi Facciamo l'esempio Akshan Se tu sei a 800 Di range di distanza Lo vedi il campione La cosa che mi preoccupa Sotto questo punto di vista È Immaginatevi una leona Che è tipo In mimesi E poi la vedi Di fronte a te Tira una lama Dello zenith E tu sei tipo Well f*** Non c'è molto da fare In merito Su questo sono d'accordo Ed è la cosa Di mimesi Non sia così alto Il valore Della distanza Entro la quale Vedi i tuoi avversari All'interno Dello smog Penso sia La chiave Del bilanciamento Se è troppo basso È sbroccato Se è nella media O anche alto È anche accettabile Come sistema Perché puoi giocare Attorno a questa cosa Non solo La mimesi È in zone prevedibili Della mappa E quindi puoi imparare A giocarci attorno Utilizzando l'uomo di controllo Andando insieme alla tua squadra Non andandoci da solo Se non hai la più pallida idea Di dove siano i tuoi avversari Quindi sì Inizialmente È la classica meccanica Che devi capire come funziona E poi riesci a interpretarla E dire Ok funziona così Bella Capito Da notare Cosa molto importante Ho menzionato i lumi di controllo Perché la mimesi Viene negata dai lumi di controllo Il trinket rosso Non basta Serve un lume di controllo Fondamentale Dovrete utilizzare Lumi di controllo All'interno in quest'area Ragazzi È il tempo di shoppare I lumi rossi Finalmente Tutte queste modifiche Di bilanciamento Arriveranno su PBE Tra il 19 e il 20 di ottobre La parte conclusiva del video Parla delle sfide O challenge Un sistema di achievement Gratis Che dà modo di personalizzare Il proprio profilo Con elementi estetici E questi elementi estetici Appariranno anche in lobby E in altre zone All'interno del client Il sistema è legato Alla vostra esperienza Totale su League of Legends Quindi non riguarda Solo le specifiche modalità Di gioco Come Ranked O Aram O Draft O Normal Ma anche per esprimere Come giocate all'interno Di queste modalità Le cose che avete fatto All'interno di League of Legends Partecipando agli eventi Per esempio O la mastery Che avete ottenuto Sul tot numero di campioni Oppure se semplicemente Vi appassionate A specifici stili di gioco In pratica L'idea di fondo È di esprimere Quello che voi fate Sul League of Legends A tutto tondo Da notare durante l'esempio In questa schermata Appare un'interfaccia nuova Lassopra Che indica che verrà Inserita una nuova tab Sul client di League of Legends Ma non si hanno Informazioni in merito Ne era apparsa un'altra Prima che menzionava Rohing King Ma hanno già confermato Che era una tab vecchia Relativa ad un'idea Che avevano per l'evento Del Rohing King Successivamente scartata Inoltre fanno vedere La nuova interfaccia Di fine partita Separando il tabellone Dei punteggi E il progresso Fatto sulle challenge Sugli LP L'esperienza E la maestria guadagnati Durante la partita Questo sistema Arriverà sul PBA Il 2 di novembre E poi successivamente Durante il 2022 A inizio 2022 Arriverà anche Sul server live E questo è quanto per ora Abbiamo tantissime informazioni E veramente poco contesto E quindi è veramente Difficile giudicare Quello che sono le possibilità Sincero Per quanto riguarda Le novità Che vengono introdotte Io sono abbastanza Positivamente emozionato Voglio vedere e provare Queste cose nuove Spero che ci sia anche Qualche sorpresina Magari qualche oggetto Che viene modificato Magari qualche oggetto nuovo Che non hanno menzionato In questo video Perché non è ancora completo E ad esempio C'era un oggetto a supporto Che doveva arrivare Per gli enchanter E hanno deciso Che è scomparso Di colpo A caso Sono un po' confuso da quello Però Immagino che tante cose Non siano state menzionate Proprio perché Poi ci saranno Dei developer blog Più specifici Che vanno a parlare Di questi argomenti Quindi Attendiamo l'arrivo Sul PBE Di tutte queste modifiche E non vedo l'ora Di giudicare Criticarle Analizzarle Insieme a voi Spero che il video Vi sia piaciuto È una impostazione Diversa dal solito Però volevo provare Qualcosa di nuovo Fatemi sapere Se vi piace Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Bella Grazie a tutti